Un santo moderno, un santo dei nostri giorni pur essendo vissuto in un periodo di grandi cambiamenti storici tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800. San Gaspare Bertoni è un santo tutto veronese ed è stato ed è ancora oggi un uomo riuscito, immerso nel suo tempo. Un santo per oggi, per la gente d'oggi. I santi sono coloro che hanno una marcia in più, sono coloro che sanno trasmettere la ricchezza di Dio. Nella giornata dedicata a questo santo la famiglia degli Stimatini in questa chiesa voluta proprio da Bertoni nel complesso che accoglie la curia provinciale e la scuola ha voluto celebrare solennemente una santa messa di ringraziamento assieme a otto formatori provenienti da tutte le missioni stimatine sparse nel mondo. Un'occasione per dire grazie e per continuare con sempre nuovo vigore la missione lasciata da San Gaspare ai suoi figli. È un santo moderno, come moderno è stato il progetto che ha portato avanti perché fa parte di quella Verona fedele che ancora oggi vive del messaggio e del lavoro che San Gaspare ha portato avanti in questa sua città. San Gaspare assieme ad altri santi contemporanei sia dal mondo femminile come nel mondo maschile è stato uno che ha voluto puntare sul sicuro. Quando è che punti sul sicuro? Quando investi sui giovani. E lui ha incominciato a investire sui ragazzi, specialmente quelli che erano i più abbandonati perché non vuol dire che uno perché è povero materialmente sia anche povero spiritualmente. E ha voluto risvegliare in questi ragazzi, far scoccare la scintilla, che è la scintilla della vita.